signore e signore vengano vengano ad assistere alla grande battaglia nell'arena della musica 10 lottatori e un solo vincitore affilate le note la top 10 sta per iniziare su cinefem 100.7 ne rimarrà uno solo al mio segnale scatenate l'inferno pronti con la classifica la top 10 numero 10 per paola e chiara con festa totale numero 9 per i burka 44 estate 80 posizione numero 8 per alessandra amoroso con big mama mezzo rotto numero 7 per i comacose con malavita posizione numero 6 per elodie con black nirvana la posizione numero 5 dei decolors con il brano karma numero 4 per mamud con ratata saliamo sul podio numero 3 per toni f con gaia sesso e samba numero 2 per tananai annalisa storie brevi la prima posizione è di anna con 30 gradi bronzatissima è bellissima gli occhi come il mare corpo che ti fa fare con divina sesso e 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 show